Nel Gerone B di Coppa Italia, seconda partita e secondo parigio interno del Taranto. Dopo il Milan, anche la Juventus si è dovuta accontentare di un identico pari, 1-1. Risultato in sostanza giusto, che merita l'impegno del Taranto e la volontà dei rimaneggiati bianconeri. Solo tre i titolari campioni d'Italia, Boninsegna, Furino e Murini, e tre riserve, Spinosi, Fanna e Rientrante Virdis, accanto ai promettenti rincalzi della Juventus. Ed è stata proprio la Juventus a portarsi in vantaggio la mezz'ora quasi della ripresa. In decisione della retroguardia tarantina, Fanna centra il bersaglio con la complicità di una deviazione. I padroni di casa non si danno per vinti e ripetuti quanto vani sono i tentativi a rete. Murini e compagni però fanno buona guardia, almeno fino allo scadere del tempo regolamentare, perché nei secondi immediatamente successivi il Taranto riesce a pareggiare con un preciso colpo di testa di Caputi. E entusiasmo in campo e sugli spalti anche per il primato provvisorio del Taranto nel girone B di Coppa Italia.